Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. This episode is brought to you by Seed. Seed's DSO-1 is a two-in-one probiotic and prebiotic designed for whole body health. Formulated with 24 clinically and scientifically studied strains, DSO-1 offers benefits in and beyond the gut. See why DSO-1 is the probiotic recommended by top doctors and nutritionists. Go to Seed.com slash Spotify for 25% off Seed's DSO-1 Daily Symbiotic. Domanda numero uno. Dove ci ha portato l'estremizzazione della libertà? L'idealizzazione della libertà. Perché la libertà, come tutti i concetti, poi deve fare i conti con la realtà per essere reale. Però, ovviamente, essendo la libertà proprio l'ideale per eccellenza libero, appunto, succede che è facile fare confusione. Come sui sentimenti che vanno vissuti con totale trasporto, senza però perdersi completamente, altrimenti si rischia di distruggersi, annientarsi. E così è la libertà. Ora, io di libertà ne so qualcosa perché l'ho sempre inseguita. A volte ho avuto l'impressione di trovarla. E sicuramente la mia ossessione giovanile era avere una libertà lavorativa, che oggi, da qualche anno, fortunatamente ho. E credevo che una volta risolta quella questione sarei stato, non dico completamente libero, ma più libero degli altri. Infatti è stata una lotta, a partire da quando ero più piccolo, che facevi i conti con un mondo lavorativo in cui tu eri un pazzo perché non volevi sottostare a uno stipendio minimo su un lavoro assurdo, come può essere magari veramente che devi fare 10 ore al giorno per 500 ore al mese. Io vivo in una località di mare. Se non ti so... non volevi sottostare a questo, quando eri ragazzino, e comunque eri uno sfaticato. Io mi sono fatto tanti anni da sfaticato perché comunque più di un part-time non volevo fare, non mi volevo fare intere stagioni, dopo che andavo a scuola tutto l'anno. Mi volevo divertire l'estate, quindi mi sono fatto un paio di stagioni che ci sono cascato perché costretto comunque dalla mentalità del posto e dei genitori. Poi mi sono preso il brevetto da bagnino, è andato ancora peggio perché uno dice ok, bagnino non fai un cazzo, no? Tu ti ostioni il primo giorno e ti ostioni i 20 giorni successivi. Arrivi al trentesimo giorno che ancora non ti riprendi dall'ustione del primo giorno e che ti senti stanchissimo, annoiato, fuori di testa perché stai otto ore sotto il sole a fare nulla e però stai al mare e quindi ti stanchi come se avessi fatto una giornata di lavoro in un cantiere. Questo è quanto. Allora lì ho detto ho capito che insomma queste tipologie di lavori non fanno per me, non mi fanno sentire libero. Quando ho raggiunto la libertà lavorativa mi sono fatto dei conti e mi sono reso conto che la mia libertà stava diventando a volte anche la mia schiavitù e quindi insomma per libertà ho dovuto fare delle cose per riscattarla questa libertà tra cui ad esempio studiare ad esempio fare determinate attività. Ora, la libertà andiamola a riprendere da un punto di vista anche ideologico la libertà intesa come non so, emancipazione femminile visto che se ne parla tanto sono questi gli anni si è partiti da un momento in cui comunque le donne giustamente volevano prendersi una parità che è di loro diritto e io sono d'accordissimo il problema è che venendo da un retaggio culturale dove si stava in qualche modo sotto sotto relativamente sotto perché la donna ha sempre comandato in casa nelle tradizioni popolari da sempre l'uomo comandava fuori casa in teoria ma dentro casa era la donna la padrona però non bastava ovviamente perché non è che puoi confinare una persona in casa quindi che succede? che nel momento in cui si è lavorato per la libertà della donna è successo che si è perso di vista un attimo il senso perché uno dice voglio diventare più libera più libera più libera adesso siamo in una fase in cui si ha l'impressione che le donne vogliano superare l'uomo non essere a pari ma superarlo e questo non è che non va bene perché io sono uomo non va bene perché e non va bene che ci sia qualcuno sopra e qualcuno sotto dobbiamo stare tutti quanti sullo stesso piano se vogliamo parlare di parità e di libertà ora lasciamo perdere il discorso delle donne che è un esempio un esempio per far capire come comunque bisogna arrivarci col tempo una volta c'erano le rivoluzioni una volta ogni cent'anni oggi in dieci anni vogliamo che tutto si metta a pari che guadagniamo tutti uguali con calma ci stiamo arrivando sicuramente oggi non ci si può permettere come una volta di fare determinate cose di pensare determinate cose la società è completamente cambiata grazie all'emancipazione della donna grazie al mondo anche al mondo omosessuale che si è preso la sua fetta è chiaro che non è che possiamo adesso pretendere che i retrogati non pensino frocio di merda ad esempio quando vedono un gay quelli che la pensano così quelli che non ci puoi fare niente e va bene però nel senso neanche possiamo pretendere che mo' di punto in bianco nel giro di dieci anni le coppie omosessuali si sposano in chiesa e no questo non si può fare ma non per qualcosa perché c'è c'è un retaggio culturale c'è questo discorso che va avanti da secoli anche quando c'erano i papi che magari non si faceva mistero che andassero con ragazzini della loro stessa del loro stesso sesso più giovani anche insomma ci sono tante testimonianze nella storia e ho capito però poi bisognava mantenere la facciata non è che possiamo cambiare un'istituzione ad esempio piuttosto lavoriamo sulla nostra spiritualità quindi il concetto di libertà è molto relativo è relativo sempre alla base un po' di quello che poi noi riusciamo a metterci come limite è come l'anarchia non è che io siccome sono anarchico posso andare a bruciare le case posso andare a cagare sui tavoli dei ristoranti sono anarchico non ho regole no sono anarchico proprio perché mi so mettere le regole sono libero proprio perché so quando confinare la mia libertà ma non solo affinché non vada a tangere la libertà degli altri affinché non vada a tangere la mia perché se no io quando ho avuto la mia piccola rivincita sociale facevo a gara con me stesso per lavorare il meno possibile cioè quindi faccio un tot di cose adesso ho due giorni e non faccio niente quindi ero in casa a fare a gara con me stesso per fare il nulla chi vinceva nessuno io perdevo anziché dire ho due giorni liberi in cui non devo lavorare perché ho lavorato prima e adesso sono libero perché sono io il mio capo due giorni li sfrutto per fare cose che mi piacciono no io facevo a gara con me stesso perché non c'evo niente di meglio da fare fondamentalmente e non ero abituato diciamo a uno status tranquillo era sempre un continuo devo trovare devo fare devo fare devo rincorrere devo rincorrere devo inventarmi qualcosa non funziona qui non funziona c'è il problema c'è la lira e quindi di conseguenza era diventato un problema ora l'estremizzazione della libertà oggi in cui tutti dicono che vogliono che devono essere liberi e nessuno è libero e quindi di conseguenza anche no quando si si immaginano i rapporti ognuno vuole essere nella coppia ad esempio libero quindi io sono io tu sei tu e andiamo avanti come io e tu e però manca il noi e questo è il grande concetto perché? perché nel noi non c'è più libertà ok ma parliamo di essere coppia quindi di conseguenza è un problema d'altro canto io ad esempio faccio fatica perché in teoria queste cose le promuovo le dico ma poi sono il primo che si sforza di entrare in un noi e si sente isolato nell'io e quindi sono anche ipocrita perché magari voglio portare un certo un certo status promuovo dico di essere paladino di quella roba lì anche nella coppia e poi la verità è che sono io quello che che non vede l'ora di rientrare nell'io quindi lo capisco bene e non sono mai libero pienamente di essere me stesso quando mi rapporto ad una persona a livello sentimentale ma non sono nemmeno libero di vivere l'amore perché devi essere in grado di lasciarti andare d'altro canto c'è una persona dall'altra parte spesso e volentieri che ha un problema simile è tutto a che fare con la libertà con la presunta libertà perché qual è la libertà reale qual è come si fa ad essere veramente liberi chi vuole essere libero per sempre il re dei pirati diciamo il mio amico che segue One Piece che l'obiettivo essere essendo il re dei pirati è essere il più libero al mondo quindi libero sia dai vincoli della società sia dai banditi perché sei il pirata numero uno quindi i banditi hanno paura di te tu non hai paura di loro e quindi sei completamente libero e ma ce ne vuole per arrivare a quel punto forse a volte dobbiamo semplicemente capire che essere liberi non è essere appunto il re dei pirati ma semplicemente avere una bella prospettiva davanti al mare e poter assistere al mare con tranquillità e sentire quel senso di libertà io credo che il grande problema di questo mondo di oggi di adesso che non voglio criticare perché io in questo mondo vivo e solo in questo mondo vorrei vivere e solo in questo periodo storico ma il grande problema è che la libertà oggi si vuole imporre agli altri a noi stessi c'è tanta confusione e per paura di non tangere la libertà altrui ci ritroviamo a far cessare la nostra a dover dare credibilità a tutto e a tenere la polvere sotto al tappeto finché non scoppiamo e quindi di conseguenza il mio messaggio per la libertà è basta dare risposte sulla libertà ma iniziamoci a domandare che cosa vuol dire per noi essere veramente liberi l'eleganza incontra la tecnologia Lancia Y da oggi nei nuovi allestimenti oro platino ed eco chic GPL partono gli incentivi Lancia gamma Y hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione e dopo un anno puoi tenerla o sostituirla anticipo 1600 euro 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro TANZERO TAIG 381 offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre